Ciao ragazzi, oggi vedremo invece della nota integrativa come costruire la tabella delle variazioni di patrimonio netto. Anche questa la faremo con dati a scelta. Allora, la tabella si presenta in questo modo. Abbiamo una descrizione, una colonna per la descrizione, una colonna per tutte le voci che compongono il patrimonio netto, che abbiamo presente in bilancio, e il totale PN. Andremo a vedere le variazioni che ci sono state durante l'anno. Quindi inizieremo con l'inserire i valori all'1.1 o al 31.12 dell'anno prima. Andremo poi a vedere quali sono state le operazioni. Diciamo che in generale le operazioni potrebbero essere le seguenti. Un aumento di capitale, che può essere gratuito o anche a pagamento. Il riparto dell'utile, in parte riserve, in parte distribuendo i dividendi ai soci. La rilevazione dell'utile dell'anno in corso e il valore che abbiamo alla fine dell'esercizio. Questo che avete qui sotto evidenziato in grigio è la parte che abbiamo ipotizzato con dati a scelta. Allora, ipotizziamo di avere a che fare con una SPA, quindi bilancio ordinario. Valori all'1.1 di quest'anno o 31.12 anno meno 1, dobbiamo ipotizzare il numero di azioni, il valore nominale di ogni azione e quindi il capitale sociale della società. La riserva legale, che potrebbe essere il 20% del capitale o meno. Una riserva straordinaria, noi abbiamo ipotizzato e abbiamo scritto che copre l'importo delle immobilizzazioni immateriali, in realtà degli oneri pluriennali immateriali, che non sono ancora stati ammortizzati. Poi abbiamo un utile a nuovo precedente, che ci portiamo dietro, potreste anche prevedere che non ci sia, però in questa casistica l'abbiamo inserito. E l'utile dell'anno precedente. Allora, supponiamo che nell'esercizio che stiamo facendo venga richiesto obbligatoriamente di presentare un aumento di capitale. Potrebbe essere a titolo gratuito o a pagamento, in questo caso io lo chiedo sia a titolo gratuito e in parte a pagamento. Allora, nel momento in cui facciamo un aumento di capitale a titolo gratuito, vuol dire che andiamo a prendere una delle riserve disponibili e in questo caso noi avevamo ipotizzato solo la riserva straordinaria. Non vogliamo usarne troppa, perché ci serviva a coprire le immobilizzazioni immateriali, quindi abbiamo ipotizzato un numero abbastanza limite, in realtà 2000 euro di aumento capitale, prendendo da riserva straordinaria. Questi 2000, se le azioni valgono 10 euro, potrebbero essere ad esempio 200 nuove azioni emesse, distribuite agli azionisti in proporzione alle quote già detenute. E l'aumento capitale a pagamento invece, con l'ingresso di un nuovo socio, avremmo deciso di aumentare per 800 azioni, sempre col valore nominale ovviamente di 10 euro, ha un prezzo però sovrapprezzo di 10,50, di cui 0,50 per sovrapprezzo azioni. Non c'è conguaglio utile in questo caso. Vediamo un attimo come procedere. L'aumento di capitale, è importante scrivere che è stato deliberato, quando? E andiamo ad inserire nella tabella della nota integrativa, i valori. Allora, i primi valori che abbiamo sono quelli all'1,1, 200.000 di capitale, riserva legale 10.000, che non ha raggiunto ancora il 20%, straordinario 8.000, l'utile a nuovo da anno precedente all'n-1, 2150, risultato economico dell'n-1, totale PN. L'aumento gratuito, abbiamo detto di 2.000 euro, che andiamo a prendere dalla riserva straordinaria, quindi vedremo diminuire la riserva straordinaria di 2.000 e aumentare il capitale sociale di 2.000. A livello di PN il totale non cambia, quindi qui non avremo variazioni. L'aumento a pagamento invece di 800 azioni col sovrapprezzo, sarà di 800 per 10, 8.000 di capitale sociale, 800 per 0,50, cioè 400 euro di riserva sovrapprezzazioni, per un totale pagato dai nuovi azionisti di 8.400, che vanno ad aumentare il patrimonio netto. Ora andiamo a distribuire l'utile dell'anno N-1 a riserve e dividende agli azionisti. Innanzitutto dobbiamo prevedere quando si fa. È importante dire la data. In data 30 aprile, oppure altra data in casi eccezionali, in cui si voglia spiegare il perché è stato superato il limite dei 120 giorni dopo la fine dell'esercizio, l'assemblea dei soci ha deliberato di ripartire l'utile dell'anno N-1 nel seguente modo. Importante scrivere questa frase. Come? A riserva legale l'importo previsto dalla legge, oppure se vogliamo specificare il 5% dell'utile fino al raggiungimento del 20% del capitale. Attenti bene, se la riserva legale è già al 20%, noi potremmo non imputare altro utile alla riserva legale. Riserva straordinaria. O si decide una percentuale, o si decide un importo in euro, o si prevede di adeguarla all'importo delle immobilizzazioni materiali non ancora ammortizzate. In questo caso però è necessario avere l'importo delle immobilizzazioni materiali non ammortizzate. Quindi di avere tutto il bilancio. La riserva straordinaria. In questo esercizio noi abbiamo ipotizzato che fosse sempre il 5% dell'utile d'esercizio. A volte potrebbe essere previsto il 5% dell'utile al netto della riserva legale. Comunque siete voi a deciderlo. Dovete solo specificarlo. Il restante viene distribuito ai soci in proporzione alle azioni possedute alla data del 31-12 N-1 ovviamente. Arrotondato al centesimo di euro. Quindi vediamo il calcolo. L'utile è 83.620. Tolgo l'importo della riserva legale che è il 5% dell'utile. Tolgo l'importo della riserva straordinaria che è sempre il 5% dell'utile. L'utile nuovo dall'anno precedente era 2.150 che devo aggiungere all'utile distribuibile. Ho così un utile distribuibile di 77.408. Calcolo il payout, cioè il dividendo per ogni singola azione. Come si calcola? L'utile distribuibile diviso il numero delle azioni. Al 31-12 N-1 quindi prima degli aumenti di capitale. Ci viene un numero con tanti decimali. Lo lasciamo tutto intero per non fare errori di arrotondamento ma qui dobbiamo troncare, cioè arrotondare per difetto. Non possiamo mai distribuire più dell'utile che abbiamo. Quindi non possiamo fare 3,88 o se avessimo arrotondato i decimali non potremmo fare 3,9 ma bensì 3,8. In questo caso dobbiamo arrotondare al centesimo, quindi 3,87. 3,87 è il payout di un'azione. Moltiplicato per il numero delle azioni che sono 20.000 ci dice che in totale distribuiamo 77.400 euro di utile. Quasi tutto. Ci rimane un utile nuovo per l'anno successivo di 8 euro. Adesso andiamo a vedere come riportare il tutto nella tabella. Vi faccio già vedere l'ipotesi successiva che è il nuovo utile dell'anno inventato, 84.000, un po' più alto di quello precedente. E andiamo a inserire tutti i dati. Qui facciamo vedere solo il riporto, il riparto dell'utile alle riserve. Quindi alla riserva legale metto più 4.181, anche alla straordinaria più 4.181. Queste due le tolgo ovviamente dalla colonna dell'utile d'esercizio. In questo modo il PN non varia perché ho solo uno spostamento di voci tra quattro ideali del patrimonio netto. Invece nella riga in cui vado a fare la distribuzione dei dividendi agli azionisti avrò che questo è il totale che io ho pagato ai miei azionisti. Guardatele un po', è questo, 77.400, attenti bene, coloriamolo con un altro colore. Viola. È lo stesso che ho qua. Ok? Questo è effettivamente l'importo che è andato agli azionisti, ai soci. Questo importo, da dove l'ho preso? Non l'ho preso tutto da qui, perché se fate il calcolo 83.000 meno 8.362, non ho abbastanza soldi per pagarli tutti. Non ho 77.400, ma ne ho solo 75.258. Quindi da qui prendo quello che ho, 75.258. Il resto lo prendo da qui, perché in effetti questo, utile al nuovo, diminuisce di 2.150, cioè lo uso tutto per distribuirlo ai soci, ma poi me ne restano 8 euro. Quindi è come se avessi fatto meno 2.150 più 8 euro, 2.142. Ma lo posso trovare per differenza facendo 77.400, che è quello che devo dare agli azionisti, meno la quota di utile che mi era rimasta. La differenza è quello che mi diminuisce dell'utile al nuovo. Infine vado a registrare l'importo dell'utile di quest'anno. 84.000, vedete, è un po' più alto, ma poteva essere anche 100.000, poteva essere anche 50.000, o anche una perdita, questo mi va ad aumentare il patrimonio netto. Così come prima i dividendi mi andavano a diminuire il patrimonio netto, perché sono proprio soldi che escono dall'azienda. Alla fine dell'esercizio farò la somma di ogni colonna e avrò capitale sociale 210.000, riserva sovrapprezzo 400, riserva legale 14.481, la riserva straordinaria, utile a nuovo, come vedete, rimane solo 8 euro. La differenza tra quello che avevamo e quello che è stato usato per gli azionisti. Il risultato rimane solo il nuovo utile e il totale pn deve venire sia la somma in verticale, sia la somma della riga, della colonna o della riga deve venire uguale. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.